Una notizia bomba si è abbattuta su Milano questa sera e noi tifosi milanisti torniamo con un altro interessante. Aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, cerchiamo di migliorare e di portarvi le notizie più recenti e rilevanti. Prima di addentrarci in questo emozionante argomento, non dimenticate di mettere i mi piace al canale e di iscrivervi per non perdere nessuna notizia. Oggi abbiamo un argomento che sta facendo scalpore per quanto riguarda il futuro del nostro club. Oggi, dietro le quinte del Milan, sta nascendo qualcosa di incredibile. Il Milan sta progettando di aggiungere Joshua Zirczi alla propria rosa da novembre e da allora è in prima linea, nella corsa al suo ingaggio. Tuttavia, c'è la possibilità di perdere la propria stella a favore di un club di Premier League, quindi è necessario trovare una soluzione. Sebbene il Milan sia stato in testa alla corsa, nelle fasi cruciali si trova ora ad affrontare la concorrenza, che mostrerà la volontà del club di portarlo al club e anche i pensieri dell'attaccante. Si sa che è favorevole a un trasferimento in Serie A, e in particolare in rosso-nero, ma il suo agente sta ritardando il trasferimento. Sebbene le cose con lo Zirczi siano sistemate, il diavolo sia felice di pagare la clausola di rescissione del suo contratto con il Bologna. Chiajo Rabkian chiede una lucrosa commissione, il che ha causato un brusco stop al trasferimento e la situazione si è aggravata con la notizia del concreto. Interesse del Manchester United per il giocatore. Tuttavia, c'è ancora tempo per trovare una soluzione. Come scrive Tuttosport, via Milan News, tra dieci giorni sarà disponibile la clausola di Zirczi che, se non fosse per i problemi della gente, sarebbe stata pagata già il primo luglio. Tuttavia, più si andrà avanti senza che si trovi una soluzione tra Giorgio Furlani e Joe Rabkian. Il Milan rimarrà nel limbo e potrebbe perdere la sua punta di diamante, rimanendo indietro anche nella corsa al suo piano B. Cosa ne pensate di questa possibile mossa del Milan? Commentate qui sotto con le vostre opinioni su questa grande mossa che potrebbe cambiare il futuro del nostro club. E non dimenticate di iscrivervi al canale per ulteriori aggiornamenti. Alla prossima! Forza Milan!